Buongiorno e ben trovati con la rassegna stampa di Molise TV. Oggi è venerdì 13 giugno, vediamo come titolano i principali quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal quotidiano del Molise, che titola con Tratta, Roma, Campobasso, due corse in più e meno disagi. Siglato l'accordo con la Regione Lazio, Pullman sostitutivi da e per Cassino. I governatori Frattura, Zingaretti e gli assessori ai trasporti ieri hanno illustrato i dettagli dell'intesa. Due treni in più, uno andata e uno al ritorno e Pullman sostitutivi da e per Cassino. E poi i saldi estivi si parte in anticipo, inizieranno il 2 luglio. Rappresentano una mannaia sia per chi vende che per chi acquista. Spesso vengono accoppiati alle misure anticrisi e quest'anno i Molise dovrebbero partire prima. Oggi prevista la firma della delibera in giunta regionale. E poi Campobasso e Isernia per la visita del Papa, maturità sospesa per un giorno. Corpus Domini salgono le quotazioni degli stadio e ancora giudiziaria truffa all'Asrem un anno all'epore. E poi la cronaca ultimora. Bimba cade dalla bici e sbatte contro un muro e gravissima. Stava giocando nella frazione di San Giovanni di Cerro a Volturno. È ricoverata nel centro specialistico della casa a sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. La bimba di nove anni che nel tardo pomeriggio di ieri è caduta dalla bicicletta fino a sbattere contro un muro. L'episodio è accaduto nella frazione San Giovanni di Cerro a Volturno dove tempestivamente sono arrivati i soccorritori della postazione del 118 che immediatamente hanno capito la gravità delle condizioni della bimba che era da poco rimasta ferita mentre giocava con la bicicletta lungo un tratto di strada in forte discesa. E poi Termoli la proposta ex cattolica al Vietri. Ancora lo sport serie D per Rella ho sempre avuto un debole per il Campobasso. Kevin Magri campione d'Italia. Primavera con il Chievo. Per il quotidiano controlliamo le pagine interne. Saldi in Molise si parte il 2 luglio. L'assessore Scarabeo conferma l'anticipo. La delibera è prevista per oggi. Al via qualche giorno prima anche per la visita del Papa che porterà in regione centinaia di migliaia di fedeli. Angiolilli plaudi spina, un imprenditore di successo alla guida dell'ente camerale. E la Confartigianato auspica la più profigua collaborazione. Toci, congratulazioni al presidente. Abi, banchi al fianco delle piccole e medie imprese del territorio. La sede regionale dell'Associazione Bancaria evidenzia le iniziative attuate per agevolare l'uscita dalla crisi. Tommaso Palumbo, facciamo la nostra parte ma servono impulsi concreti per far ripartire l'economia. Con l'impresa in forma, l'ACEM si schiera con la sicurezza, iniziativa svolta in collaborazione con l'Inail. E ancora i trasporti, Frattura e Zingaretti aprono una nuova stagione, siglato l'accordo che prevede migliori collegamenti tra il Molise e Roma. E ancora coltivazioni OGM e Ruta. Finalmente gli stati membri saranno liberi di decidere. E' soddisfatto il senatore. Rimborsi all'Arsiam l'ex presidente Lepore condannato ad un anno prescritto l'abuso d'ufficio. L'avvocato ricorreremo in appello. Premio di fine mandato per Fusco, Iorio e Totaro ci sono 195 mila euro. I tre consiglieri hanno maturato dieci anni di attività. Passiamo ora a primo piano. Molise che titola con Monteroduni migranti in rivolta. I profughi protestano per le condizioni disumane in cui sono costretti a vivere. Necessario l'intervento della DIGOS. Il proprietario della struttura si difende. Li tratto come figli e anticipo anche le spese. Scoppia la protesta dei migranti ospitati all'hotel Holiday, rivolta ieri pomeriggio nel parcheggio della struttura ricettiva. Per placare gli animi è stato necessario l'intervento della polizia. La tensione è scaturita da quelle che gli immigrati considerano condizioni disumane di vita. Accuse che vengono subito respinte dal titolare dell'albergo. Li tratto come fossero dei figli. Nel frattempo è anche giunta la notizia del reggetto della maggior parte delle domande di asilo politico inoltrate dagli stranieri. E poi a Campobasso, McDonald's, arrivate 3.000 domande per appena 30 posti di lavoro. Il 17 giugno le selezioni all'ex Romagnoli. Migliaia di domande per poche decine di posti di lavoro. E poi Cerro al Volturno finisce con la bici contro un muro grave. Bimba di 9 anni trasportata al Veneziale è stata poi trasferita d'urgenza alla casa Sollievo di San Giovanni Rotondo. È successo a Cerro al Volturno in gravi condizioni. La bambina di 9 anni finita con la bici contro un muro trasportata al Veneziale di Isernia è stata poi trasferita d'urgenza a San Giovanni Rotondo. Campobasso per la visita di Papa Francesco stoppa agli esami di maturità. Eppure Isernia sarà blindata per accogliere 40.000 fedeli. Ancora sanità, comitati sul piede di guerra. Da Venafro l'invito ai sindaci. Dimettetevi tutti la proposta da Termoli, ex cattolica Allarino. Termoli municipio inizia l'era sbrocca. Ieri la cerimonia di proclamazione. È ancora a Campobasso. Rimborsi per le trasferte. Pierluigi Lepore è condannato a un anno per truffa. Treni con l'accordo Lazio-Molise parte una nuova stagione di collaborazione, la conferenza congiunta di Frattura e Zingaretti. Dal prossimo lunedì fino al dicembre 2014 la regione Molise garantirà più treni da Roma. In cambio la regione Lazio contribuirà all'istituzione di un nuovo collegamento autobus da Cassino fino a Campobasso e viceversa. Le due amministrazioni suggellano l'accordo sui treni e avviano una nuova stagione di collaborazione interistituzionale a servizio dei cittadini. Ieri a Roma, nella sede della conferenza delle regioni, l'annuncio ufficiale dei governatori Zingaretti e Frattura. E poi l'Abruzzo, una notizia da vasto. I vigili urbani sfiduciano il primo cittadino. La D-CAP ha indetto lo stato di agitazione. Poi lo sport, il trionfo. Kevin Magri, campione d'Italia. Primavera, il Campobassano è capitano del Chievo. E ancora a serie D, Perrella spiega la sua scelta. Il Molise deve sostenere i lupi. Calcio a 5, Isernia sale la febbre da finale. Domani in Palio, un posto in B. E anche per primo piano controlliamo le pagine interne. Patto, Molise, Lazio, più treni per Roma. Una nuova collaborazione. I governatori ufficializzano con gli assessori ai trasporti l'accordo che rafforza la tratta. Zingaretti, trovare insieme soluzioni per i cittadini è possibile. Frattura, archiviato il campanile, servizi migliori ai nostri pendolari. E poi la crisi, la carta della moneta complementare. La regione dà l'ok alla sperimentazione. Intanto l'ABI fotografa la situazione. Dal 2009 alle piccole e medie imprese sono state sospese rate di mutuo per 40 milioni. E ancora il Movimento 5 Stelle con Farage a Strasburgo. Federico fa outing su Facebook. Votato per l'adesione a FD. E si scatena il putiferio. Ciocca, critica, destra, estrema, cretella, replica. Pensa i suoi compagni di banco a Palazzo Moffa. Sugli OGM decidono gli stati. Ruta ha intesa ok. Un anno fa San Cimmo. Il divieto. Ancora la sanità. Dal Cardarelli barricati per il servizio pubblico. In riunione i comitati e il personale degli ospedali. Frattura modifichi il piano. Pastori attacca a mercificazione del diritto alla salute. De Vincenzo. Il tavolo non può approvare provvedimenti così sproporzionati. Gli indignati accusano. Il centro-sinistra favorisce i signori del privato. E Petraroia spegne le polemiche nel PD. Contestiamo insieme a Roma. Il vicepresidente. I diritti non sono modulabili. Li garantisce la Costituzione. Procreazione assistita. Costituita la commissione. E ancora più frutta nelle bibite. E tappo antitruffa per l'extravergine. Soddisfatta la col diretti. La confederazione regionale ha colte le nostre richieste. E attesa per il decreto campo libero. Passiamo adesso alla gazzetta del Molise. Che titola Conel Molise. Fa acque da tutte le parti. Le strane assunzioni fuori concorso salgono a 40. E ancora l'Oscar del giorno a Paolo Frattura. E il tapiero a Pierluigi Lepore. Passiamo alle pagine interne. La nuova legge antisismica. Nelle mani della giunta regionale. La necessità di semplificare la procedura di deposito dei progetti. E di delegare ai comuni in forma singola associata alle funzioni in materia sismica. I vantaggi per i progettisti, per le imprese, per i cittadini e per la stessa regione saranno considerevoli. Sanità, la battaglia di retroguardia di Frattura. E ancora Molise ha quel clientelismo e di casa. L'agenzia speciale continua ad assumere personale vicino e propri amministratori. Per pura casualità si tratta di dipendenti che ricoprono l'area geografica degli assessori regionali. E ancora rimborsi. Arsia Malepore condannato per truffa prescritto il reato di abuso d'ufficio. Il coordinatore provinciale di Forza Italia si becca un anno di reclusione. Passiamo adesso al quotidiano Il Tempo, la sezione relativa al Molise. Termoli, Salmonella nel Trigno, acqua vietata. Il sindaco di Montenero ha emanato un'ordinanza che blocca l'irrigazione. Dinuncia dei consorsi di bonifica dopo le analisi sui campioni prelevati alla foce del fiume. E ancora un'altra notizia da Termoli. Le proposte per salvare Santimotio e Vietri. Il comitato civico presenta le richieste per evitare la chiusura e puntare a un unico polo. Vediamo adesso insieme l'home page del quotidiano online Informa Molise. Tra le notizie in primo piano. Leopap inaugura una nuova mostra abita a Turban Alex Gil. E ancora i tumori della tiroide e nuove prospettive terapeutiche con il resto scientifico a Campobasso. Siglato l'accordo di inserimento lavorativo tra provincia e Fiat Group. E ancora a treni Lazio e Molise suggellano l'accordo. Zingaretti e Frattura una nuova stagione di collaborazione. Sanità, CGL, FP, CISL, FP e UIL, FPL. L'impegno del sindaco Sorbo è solo sulla stampa. E ancora Camera di commercio si è telefonando. McDonald ha per a Campobasso quasi 3.000 domande per 30 posti disponibili. L'Unione Europea ha raggiunto l'accordo politico sugli OGM. E ancora Sanità, Comitato Santimotio, riflessioni, idee e proposte. Una sanità di tutti e per tutti. Ecco, passiamo adesso alla stampa nazionale. Leggiamo proprio il quotidiano. La stampa Orsoni patteggia e arresta sindaco. Finanziamento illecito. Il primo cittadino di Venezia degli arresti alla giunta. Caso Mineo, 14 senatori PD si autosuspendono. Renzi non gli consegno il paese. E poi ancora l'inchiesta di Napoli tangenti alla finanza. Ufficiali gole profonde. E poi le interviste sul futuro dell'Unione Europea. Giancaravvento ora va davanti il veto di Londra. Così l'Unione Europea finisce. E poi festa e scontri per l'avvio del Mondiale. Dopo il debutto del Brasile stasera Spagna-Olanda. L'ultima tegola per gli azzurri. Si infortuna ad Esciio. Passiamo alla Repubblica. Renzi attacca i ribelli PD. Cinque stelle scelgono Farange. La base contro Grillo. E 14 senatori si autosospendono. Dopo la lite sulle riforme. Il premier e il partito. Non è un taxi. Non lascio il paese a Mineo. Orsoni patteggia. Ioresto ed Eme pronti a sfiduciarlo. Ancora violenze sulla festa dei mondiali. Scontri e feriti. Prima della partita abbattuta la Croazia. Per 3 a 1. Passiamo adesso al tempo. Non accettiamo processi alla finanza. Parla il comandante della Guardia di Finanza. Le indagini sui miei uomini. C'è amarezza. Ma il corpo è sano. E chi abusa del proprio ruolo. Non facciamo sconti. Ma ricordate la presunzione di innocenza. A Roma per i due marò. Domani la manifestazione. Caro sindaco. Marcia con noi. Tutti insieme. Nessuno indietro. E ancora Orsoni parla e attacca il PD. Nelle carte del Mose. Ancora Letta, Junior e Finiani. L'editto cinese di Renzi. Via Mineo e dissidenti. Passiamo adesso al messaggero di Roma. Stata l'impensione si cambia. Oggi le misure della pubblica amministrazione. Ipotesi di ritiro a 57 anni. Con la riduzione dell'assegno fino al 30%. Taglio dei distacchi sindacali. Telelavoro e voucher a babysitter. Media stop ai conservatori. Il viaggio del Premier sistema Italia. La scommessa sull'Oriente. E poi mondiali. Gli auguri del Papa. Esordio della Selesau. Per 3 a 1 alla Croazia. Brasile show al via. Dopo gli scontri. La cerimonia. Musica e capoeira. E l'anima verde oro. San Paolo. Proteste e incidenti. Tornano ai black bloc. I pari formi. Strappo di 14 senatori. Il PD. E l'altolà di Renzi. Passiamo adesso all'economia. Leggiamo il Sole 24 ore. Tasi senza detrazioni. In un comune su due. Il governo. Niente sanzioni. In caso di errori. I sindaci trascurano gli sconti. Aumenti per le prime case. Di valore medio o basso. E poi lo scandalo. Moser. Orsoni svela ai giudici il triangolo dei fondi neri. La vera cura per gli statali. E' semplificare produttività e riforme. Riforme. Tensione nel PD. Autosospesi 14 senatori. Renzi tira dritto. Basta. Veti. Il premio del partito è un bivio. Non lascio l'Italia. E' mano a Mineo. E poi la pubblica amministrazione. Spesa giù dell'1% all'anno. Part time al 50% nella delega. Sblocca opere per 5-6 miliardi. Oggi in CDM il maxidecreto con la riforma. Le semplificazioni e i poteri a cantone. Passiamo adesso allo sport. Leggiamo il Corriere Mondiali. Via. Caos a San Paolo. La Selesao vince. Il Brasile va. Ma che furto. Croazia avanti. Pari di Neymar. Poi decide l'arbitro giapponese. Regala un rigore. Ai Verde Oro ferma tutti gli assalti dei rivali. Finisce per 3-1. Negli scontri prima della partita. Ferite due giornaliste americane. E ancora De Sciglio. Si infortuna domani non ci sarà. Balo. Telli titolare contro gli inglesi. Così Prandelli sfiderà Hodgson. E ancora la Spagna con l'Olanda. E la finale del 2010. Ecco il Cile. Vidal gioca. Ma il Real lo scarica. I brasiliani innamorati del nemico Messi. E ancora Lazio. Pioli ce la firma per due anni. Blitz di Ferrero. La Samp è sua. Ora Cassano. Parla Giulini per il Cagliari. Voglio Zeman. E questo era il nostro ultimo quotidiano sportivo. Io vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per aver scelto la rassegna stampa di Molise TV. E buona giornata. Il meteo è offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per venerdì 13 giugno. Proseguirà la fase anticiclonica con cielo in gran parte sereno o poco nuvoloso. Si rinnoverà tuttavia con il riscaldamento diurno lo sviluppo di annuvolamenti pomeridiani sui monti appenninici interessati anche da brevi isolati temporali in dissolvimento comunque entro le ore serali. I venti saranno deboli o moderati con mari generalmente poco mossi. Campobasso minima 20, massima 29 gradi. Iserni a minima 18, massima 26 gradi. Termoli minima 22, massima 25 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Grazie a tutti.